ragazzi e allora visto che vi piacciono i video dove si parla e si usano i trattori oggi qui c'è la fiat 411 ruote hai capito che spettacolo la accendo e cosa facciamo vedere nel video facciamo vedere il tiraggio del socco che abbiamo provato iniziato l'altra volta e non ce l'abbiamo fatta anche pur mettendo bloccando il differenziale qual è il socco il socco è questo qua perché dobbiamo far posto di ingrandire l'orto c'è un socco di siepe che non ci serve più e allora l'altra volta non ce l'abbiamo fatta e adesso vedete quello il socco lì il vecchio ha già attaccato la corda d'acciaio la corda d'acciaio e quello la corda lì che l'abbiamo spaccata l'altra volta a tirare con la 4 e 51 un altro socco di pesco è quello lo attacchiamola alla 4 e 11 ruote e lì è arrivato il vecchio e adesso facciamo il video tomora ci ne prese tanta gioca dai glamore trattori si è pronto guarda bene che l'abbiamo facendo il trattore è il trattore della diretta adesso accendo il trattore fiat 411 super trattore sembra quasi un autobrindo ho già controllato l'olio la nata il livello dell'acqua la pompa bomba carburante tutto controllato è un gioiello questo non è è un po che non abbiamo acceso ma non troppo questo posto la marcia non c'è la chiave attivata ben poter guarda già in te pannello comandi conto fino a venti riscaldamento candelette la battete la questione molla che da una canone e fome da timboren 15 16 17 qui c'è il arricchitore 18 19 20 questo 60 anni, è ancora lui. Guarda dove è il palazzino preso. Non è un po' più bello. Non è un po' più bello. Non è un po' più bello. Guarda qua, Dreu, non di meno! No, non è un po' più bello. Non c'è quanto c'è tutta l'interno? Non c'è la che c'è pure. Passiamo. Valbacce! Valbacce! Valbano! Valbacce! Vieni ancora! Vieni ancora! Vieni ancora in tre! Buona! La cina è presa! Che spettacolo! Cattiva? Sì! Stavate? Mi prendo quella cina è presa, e ciò ciò ci sa che lo faccio. e ciò 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 ciò! Ma dici che è fatto questa volta! Ma se ti vuoi dire che si fai qui! E' un po' forti, dai, un po' forti Buona, buona, buona E' un po' forti Ah, ormai aveva detto che io ho la radice La radice, la mia è merda, è vero che la radice è libera Una delle belle stavolta Non c'è niente Ma questa qua è la mia caramè La mia caramè Un po' forti, qui è la 411 Allora adesso la mettiamo via Vieni un po' in diretta se stacca Staccamo via, aspetta un po' che vieni in diretta Dai Stai in diretta lì Aspetta, ho fatto la stacca lì stessa Eh? Tu sei da stacca Allora adesso la mettiamo qui al trattore E puoi andare via Allora Prima Addire A tutti siamo già Tanti spiagini A tutti siamo già Ci spiagini Tanti spiagini Città Tanti spiagini Città Anemia Sperati Città Città Sperati 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 Tanti spiagini Lì Sperati questo è come un carro armato, senti che spettacolo ci vediamo al prossimo video quando facciamo degli altri lavori nel campo ciao a tutti che spettacolo